Buongiorno a tutti, sono Lavinia Busatto e sono entrata in azienda all'inizio del 2015 come impiegata nel Customer Service Italia presso la sede di Rivoli, ruolo che ancora ricopro. Da allora è iniziato un bel viaggio alla scoperta del mondo della saldatura. Nel 2019 mi occupo anche dei key account che sono clienti diretti del settore dell'oil and gas e del pipeline. Questa esperienza mi ha offerto l'opportunità di approfondire la conoscenza tecnica dei nostri materiali e del processo degli ordini speciali che vengono sviluppati in base alle specifiche tecniche richieste dai clienti. Questa tipologia di ordini mi appassiona molto sia dal punto di vista tecnico che da quello dello sviluppo dell'ordine. Collaborando attivamente con il team degli ordini speciali, il SES, i pianificatori, l'ufficio finanziario e la produzione, gestiamo l'intero processo dalla presentazione dell'offerta alla consegna del materiale al cliente. A volte si tratta di commesse molto lunghe che possono durare anche alcuni mesi. Lavorare nel customer service mi consente di essere in contatto con altri dipartimenti, comunicare con colleghi provenienti da diverse nazioni ed avere un contatto diretto con il cliente. Ho finalmente realizzato il mio obiettivo di lavorare in una multinazionale, un'azienda strutturata e dinamica che offre un costante aggiornamento attraverso un piano formativo continuo.